www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Filomeña muy hermosa, escapata de Canosa, Filomeña calofeira, escapata de Lucena. 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 Forse è andata giù a Sanremo, ma che cazzo ne c'avevo, forse al lago del Romaglio, noi non ne sapevo un cazzo. Filomenia, dove stai Filomenia? Cosa fai Filomenia? Io lo sei cosa fai Filomenia. E porche non me la dico spiega? Filomenia, dove stai Filomenia? Che male tu capo, son quei perdono il riso, se rispondono. Guardate! 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 Grazie a tutti.